La sanità italiana è la meno finanziata d'Europa, gli spray che ci sono vanno eliminati ma un'ulteriore contrazione di stanziamenti rischia di far sbandare l'intero sistema. Nuovi ticket di accentuare la tendenza che già esiste di 9 milioni di italiani che rinunciano a curarsi perché non hanno soldi. Un problema comune a Spagna, Inghilterra, Stati Uniti, se ne è parlato ad un convegno organizzato all'Arapacis di Roma. Abbiamo una popolazione che invecchia, pazienti sempre più anziani, sempre più bisognosi di cura. Dobbiamo cercare di fare in maniera che la spesa importante anche sotto il profilo sociale della sanità sia una spesa che sia depurata dagli sprechi, da esami non strettamente utili, da farmaci prescritti in maniera che non vengano poi realmente assunti dal paziente. Alcune regioni, alcuni farmaci importanti e costosi come quelli biologici per esempio per curare alcune forme tumorali semplicemente non sono disponibili perché le ASL non hanno i soldi per comprarli. Che giustizia è questa? Diciamo che è la giustizia dell'aeroplano, nel senso che poi il paziente prende l'aereo o il treno o la macchina e va da dove riceverà verosimilmente la terapia. E poi la regione dovrà rimborsare l'altra e farà deficit di bilancio. Esattamente. Piuttosto si faccia un'attività seria di mappatura degli sprechi in modo tale che si possa aggredire lo spreco in sé. Visto che le istituzioni non lo stanno facendo, cittadinanza attiva quest'anno a breve partirà proprio il progetto i due volti della sanità, Spreghi e Buone Pratiche, dove andremo a mobilitare tutte le 300 sezioni del Tribunale per il terzo malato per individuare tutti gli sprechi che ci sono in Italia e consegnarli al Governo per eliminarli.